allora sono qui con solidox e ho fatto questa parte qua ok e ho dovuto un attimino durante la creazione nella seconda parte della seconda volta ho dovuto un attimino modificarlo perché avevo un problema qui che mi modificava leggermente il peso naturalmente avevo sbagliato avevo sbagliato questo se io torno indietro nella storia cos'è che avevo sbagliato perché adesso è giusto però questo 184 e questo deve essere 184 naturalmente io sto arrivando a un punto in cui meno schizzo faccio meglio è sono più veloce perché devo lavorare almeno sullo schizzo e questo aiuta il problema è che bisogna stare molto più attenti perché quando io disegno tutto bello giusto ripeto ci metto molto più tempo rischio di sbagliare sui vincoli così via però diciamo ho un'idea qui invece io mi sono trovato con una problematica che mi sono accorto dopo però se non avessi saputo bene più o meno il peso non sarei ritornato indietro a controllare perché avevo pensato fosse giusto in realtà c'era c'è un piccolo problema perché io cos'è che ho fatto prima sono andato a tirare se vediamo qui una riga a nulla e torniamo indietro sono andato a tirare una riga ok ma questa riga io non l'avevo tirata giusta come è sul disegno anche se difficile cioè non è che si non era perfetto però succede questo allora se io perché l'avevo attaccata qua io posso andare qui tolgo i vincoli ok e vado a spostarlo qui ok a questo punto potrei lasciarlo anche qui già tanto non cambia lasciamolo così non posso anche spostarlo ma inutile è uguale a questo punto fatto così e oggettivamente cos'è che cambia cambia di poco perché questo è cento di un millimetro di un pochino meno di un millimetro 183 un millimetro però a questo punto il peso cambia ma anche questo si creava giustamente siccome poi questo io l'ho fatto con una sempre con una linea a questo punto all'inizio del video non me l'ho accorto poi io questo l'avevo cancellato e dico che strano ma è proprio per dovuto a quel fatto lì di 183 ok dunque io davo la colpa a solidox però solidox bisogna imparare che difficilmente sbaglia e qui ho sbagliato io perché leggermente inclinando essendo inclinato leggermente non perfettamente un quadrato succede questo ecco dunque questo è molto interessante allora dovevo tornare indietro vedere a ma questo succede perché non solo in un quadrato ok poi quello lì per carità si può tagliare però doveva fare campanello d'allarme per il fatto che questo qui non era 184 nel disegno si potrà capire che si intendeva quello di cento un quadrato e difatti per è un millimetro però va poi non creava grossi problemi però è l'interpretazione del disegno la lettura del disegno che ero sbagliata la mia ok a questo punto andiamo a rimodificarlo e naturalmente l'idea è che questo qui corretto deve stare allineato questo a questo punto sono un perfetto a questo punto questo qui è 184 e questo è 184 ok a questo punto vado fa e il pezzo era così ok l'idea ecco bisogna stare un attimino attenti su questo va bene ci vediamo alla prossima arrivederci